Non mi viene a me! Non mi sono bacano, a neveci del mattino, ma siamo in un mercato, mi sento salunata, ho ancora gli occhi chiudi, forse sto sognando, si tratta di un contesto, o io mi sto sbagliando. Ragazzi, dai venite, cos'è sta novità? Mi pure ti sei morto, che cosa mi darà? La prima cosa d'autore. E chi non mi ha sentito? Sarà non solo asciuto, chissà che cadherà. Perché perdere tempo a presa a questi qua? Concerto per pensare, pensare servirà. Io preferisco andare, andare via di qua, ho come un'allergia, pensare non mi vuoi. Ok, ok, stop, stop. Ehi ragazzi, ma chi vi prende stamattina così gasati di buon'ora? Dai Valeria, vieni. Ecco le discotecate, ma come? Sono tu, Gonzali, che stasera nel nostro teatro ci sarà venendo unico, grandioso, irripetibile. Di chi stai parlando? Di chi stai parlando, ma dove vive i confini della realtà? Stasera c'è il grande, concetto per pensare di Luca Figiani. E chi? Dai, chi ci stanno prendendo in giro? Ve lo dico io, che è Luca Figiani. È un cantatore non tanto conosciuto, che fa canzoni che parlano di cose strane, di bene, di sentito. E naturalmente la caralessa non vorrà perdersi un'occasione così preziosa. Perché? Che c'è di male ad andare a sentirlo. Sì, sì, poi magari sta domenica partecipiamo pure ancora a panocchiale con i più grandi successi di Luca Figiani. Ah, oh ragazzi, ma ci siete stamattina? In fondo non sappiamo nemmeno di chi stiamo parlando. Perché non ci facciamo una capatina stasera al teatro? Eppure gratis. Ma Carla, al teatro, così vestiti. E che ci abbiamo? Le bucci. Ci faranno entrare sicuramente. Allora ragazzi, ok? Stasera alle otto e mezza e chi non viene è fuori dal giro. Va bene, va bene. Lei sembra vinta, ma è l'ultima volta. E viva Luca Figiani! Grazie. 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 Grazie.